Le edizioni Frate Indovino sono una realtà dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini. Sono nate 75 anni fa con il primo numero del calendario di Frate Indovino. Dalle poche copie del calendario del 1946, ora l'Almanaco raggiunge milioni di famiglie in Italia, con il suo carico di saggezza popolare, sano umorismo, consigli per l'orto, il giardino e la casa. Con le famose previsioni meteorologiche e soprattutto con la sua proposta di una buona parola per la vita di ogni giorno. Ma la nascita del calendario ha segnato l'inizio di un'avventura editoriale imprevedibile, che ora ci vede attivi nella stampa periodica, con un mensile con circa 180.000 abbonati e nell'editoria libraria con due marchi. Le edizioni Frate Indovino, legate alla figura iconica del fraticello, con i classici sulla cura dell'orto, sulle qualità delle erbe, sulle esperienze pratiche insomma della secolare tradizione dei conventi francescani. E poi con il marchio edizioni francescane italiane. Con questo vogliamo guardare l'attualità affrontandone i suoi temi decisivi, cura del creato, economia solidale, spiritualità, sempre attraverso un'ottica incentrata sul carisma francescano. Quella di Frate Indovino è un'opera editoriale che porta speranza e una buona parola per la vita di ogni giorno e nel contempo è strumento di concretizzazione della reciprocità evangelica. I proventi economici dell'attività editoriale sono infatti investiti nelle opere caritative e di evangelizzazione sostenute da noi, Frati Minori Cappuccini. Non mi resta che augurarvi una buona lettura e pace e bene.